Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberta Chiappe e mi occupo della formazione del network Linea Amica. Il percorso si chiama Fronto Fischiavi in Mano. Mi scuso in partenza con alcuni di voi che già avranno sentito alcune di queste informazioni in altri incontri, però lo faccio anche a beneficio di quanti sono invece recenti acquisizioni del network. Cercherò di essere però breve, soprattutto nella fase descrittiva. Vi chiedo poi di fare domande nella fase successiva del dibattito qualora ci siano informazioni di cui avete bisogno. Allora, l'attività come ha fatto cenno il dottor Talamo prima, intanto qual è l'obiettivo dell'attività formativa? È quello di uniformare a livelli di eccellenza le tipologie di risposte dei servizi al cittadino. Diciamo che Linea Amica non ha inventato un modello di servizio di attenzione al cittadino, ma lo ha proprio mutuato dai casi migliori dei contact center delle pubbliche amministrazioni italiane. Alcune di queste sono appunto le sette sorelle, per cui l'idea è quella proprio di portare ai livelli di eccellenza e di uniformare il più possibile i già esistenti servizi di attenzione al cittadino di tutte le pubbliche amministrazioni italiane. Il percorso formativo è un'opportunità che Linea Amica offre in modo gratuito, quindi un'opportunità di formazione in presenza a distanza, gratuita per i responsabili e gli operatori degli URP e dei contact center. Parto prima da qual è stato il punto di partenza. Abbiamo fatto nel giugno del 2009 una rilevazione per capire quale fosse l'interesse delle amministrazioni che facenti parte del network e quale è la disponibilità anche a partecipare a percorsi formativi sulla comunicazione pubblica. Ci siamo posti il dubbio che molti lo avessero già fatto, che magari alcuni temi sulla comunicazione pubblica fossero già noti e su questi si fosse già fatta molta formazione. In realtà la risposta è stata un pochino inaspettata, nel senso che il 22% non aveva mai partecipato a attività formative, d'altra parte si sa che i soldi, i finanziamenti delle pubbliche amministrazioni per la formazione sono negli anni recenti ulteriormente ridotti. L'88% era interessato all'offerta formativa ma il 30% aveva ovviamente problemi di disponibilità e tempo. Essendo molto personale, dedicato quasi esclusivamente al front office, non era possibile per le pubbliche amministrazioni far fare formazioni in presenza a queste persone. I temi sui quali si rilevava maggior interesse non erano quelli generali della comunicazione pubblica, tipo i principi della comunicazione pubblica ma proprio invece i canali, gli strumenti e poi l'organizzazione del front e del back office. Sulla base di questo abbiamo quindi strutturato un percorso formativo che prevedesse la maggior parte delle attività a distanza attraverso una piattaforma e learning e invece una parte di attività in presenza. Gli incontri in presenza sono quattro distribuiti nell'arco di due mesi, l'attività inizia a distanza e prosegue durante tutto l'arco del percorso. A marzo 2010, dopo aver terminato la prima fase formativa, abbiamo poi fatto una seconda rilevazione, anche considerando che molte amministrazioni da giugno 2009 erano entrate a far parte del network, sull'interesse a partecipare a questa attività e l'interesse in linea di massima è stato confermato, chiedendo ulteriormente informazioni su quale fosse l'interesse a partecipare anche agli stage, quindi qualcuno di voi ha anche risposto proprio dichiarando disponibilità anche a ospitare le amministrazioni in stage. Quindi in pratica quali sono le attività? È un percorso formativo integrato per gli operatori di front office, i temi sono quelli della comunicazione pubblica, c'è una parte come vi dicevo di conoscenze di base che è un'attività online, una parte invece di approfondimenti, strumenti di lavoro, eccetera, che viene fatta in parte in presenza e in parte online. L'attività in realtà di front office chiave in mano si parla sempre per il percorso formativo, ma in realtà al percorso si unisce, sta diventando parte molto importante invece il social network su innovatori IPA, dove c'è un gruppo dedicato proprio all'attività di linea mica del network, del gruppo fanno parte oggi circa 150 persone, perché l'idea è che un percorso formativo sia un'opportunità per le persone, ma alla fine dei percorsi formativi ci deve essere un luogo dove le persone possano continuare la condivisione e lo scambio. Il Formez ha sempre fatto questa attività di assistenza alle pubbliche amministrazioni unendo alla formazione e l'assistenza alle comunità online, diciamo questo è un po' il nostro modello e ci sembra che questo possa funzionare.